Tutto ha inizio qui, la città, il luogo in cui le vite si intrecciano e le sfide diventano opportunità. Un insieme di aspetti intrecciati tra loro. Un mondo di mondi. Perché una città cresca in maniera armoniosa e diventi il porto sicuro di ogni cittadino, è necessario che ogni mondo sia gestito con intelligenza, velocità ed efficienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Numeri, statistiche, immagini, parole, dati, a cui diamo valore trasformandoli in informazioni per prendere decisioni migliori e rendere la nostra città sempre più somigliante al mondo che vogliamo.